previsioni meteo di martedì 12 maggio al nord cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni più nube ma del tutto innocue a nord ovest al centro e al sud ampiamente soleggiato ovunque salvo qualche velatura nelle regioni centrali venti deboli mari tendenzialmente calmi molto mosso lo ionio temperature stabili lieve calo nelle zone interne appenniniche